Venerdì 3 novembre mi sono recato a Roma e a ritirare un premio che mi ha dedicato la giuria nazionale del Kodakons che è un'associazione dei consumatori e il premio è Amico del consumatore 2017 con una bellissima frase che la prendo come stimolo per fare di più a Luigi Lucchi, Amico del consumatore 2017 ma deve fare ancora di più la motivazione di questo premio è soprattutto legata a due azioni che sta facendo questa amministrazione comunale in completa solitudine quella di gestire il sistema idrico integrato quindi gli acquedotti e le fognature e il compostaggio di comunità e la raccolta ai rifiuti le gestiamo come comune e mi fa piacere che un'associazione di consumatori prestigiosa che opera a livello nazionale riconosca che il comune di Berceto rispetta la Costituzione e non si lascia turlupinare da delle leggi anticostituzionali che obbligano i comuni a far gestire questi servizi da carrozzoni pubblici o carrozzoni privati diminuendo anche la democrazia perché un cittadino ha diritto di votare i propri amministratori che gli forniscono dei servizi valutando sui servizi forniti cosa che non può avvenire con gli amministratori e gli amministratori di S.P.A. che non guardano i cittadini ma guardano gli azionisti ma guardano gli amministratori